Questo singolo attrezzo è in grado di isolare e rinforzare tutti i tuoi muscoli da qualsiasi angolazione. Può dare un allenamento cardio e si monta in un minuto! Vi presentiamo il T-Grip Max! Da oggi è così che ti alleni al massimo. I più esperti allenatori famosi e professionali nel mondo utilizzano T-Grip Max. T-Grip Max è progettato per isolare e far lavorare i muscoli in ogni direzione immaginabile. Con questo attrezzo è come avere una palestra in casa. Basta una porta e il gioco è fatto. T-Grip Max si monta in qualsiasi porta in meno di un minuto. Basta far passare l'ancora sopra o sotto qualsiasi porta e chiuderla. Quindi scegliere l'elastico di resistenza più giusto per il vostro livello di forza e farlo passare attraverso l'occhiello. Puoi agganciare l'elastico al manico T-Grip Max e sei pronto per l'allenamento! Puoi persino agganciare il T-Grip Max a qualsiasi oggetto stabile in modo da poter usare T-Grip Max ovunque. Esercita una resistenza progressiva, quindi aumenta man mano che ti alleni. T-Grip Max ti dà questa opzione grazie ai diversi elastici con diversi livelli di resistenza. Ti permette di cambiare la presa e di cambiare la posizione delle mani. Così aumenti lo sforzo gradualmente dal primo fino all'ultimo allenamento. La maniglia T-Grip dal design brevettato rende T-Grip Max facile da usare. Prendi la barra T-Grip Max con i palmi in su, giù, dai lati, sopra la testa o di traverso al corpo. Cambiando la posizione delle mani sulla barra T-Grip, ottieni un allenamento Total Body con un solo pezzo di attrezzatura. T-Grip Max è stato realizzato in modo da permettere a chiunque di allenarsi come un professionista, ovunque si trovi. Metti le mani ai lati del T-Grip Max per rinforzare spalle e schiena. Poi cambia con una presa da sotto per lavorare i bicipiti. Prendi la maniglia di nuovo dai lati, abbassa la maniglia e hai un'azione da avvocatore per torace, schiena e addominali. Prendi il centro della maniglia, tira in su e rassoda i tricipiti con la resistenza bidirezionale. Piazzando il T-Grip Max in alto sulla porta puoi far lavorare i tricipiti, il torace, fare reverse curl per i bicipiti e i migliori crunch sospesi in assoluto per avere addominali di ferro. Il T-Grip Max è dotato di un video e poster che mostra come fare decine di esercizi per ogni gruppo muscolare, parte del corpo e livello di fitness. Utilizza il T-Grip Max per squat corpo performanti. Lavorerà ogni gruppo muscolare e lo farà senza pesi pesanti per ridurre le probabilità di farti male. Quando usi il T-Grip Max puoi fare dei movimenti per la parte superiore del corpo e ne puoi aggiungere altri per le gambe così sviluppi più forza lavoro per il cuore. Ed è più o meno come fare aerobica se continui abbastanza a lungo, cosa che invece è difficile fare con altri tipi di attrezzi fitness. Non hai una porta? T-Grip Max è fornito di ganci per i piedi dove puoi attaccare la maniglia T-Grip, lavori gli addominali, cosce, spalle e crei un allenamento aerobico per il cuore ovunque tu sia. Dozzine di combinazioni, non è mai noioso ed è sempre una sfida. Ci sono talmente tanti modi per allenarsi con questo favoloso attrezzo che non ti stupperai mai e i tuoi muscoli saranno sempre sottoposti ad una nuova sfida ed è questo che fa la differenza. T-Grip Max è fornito con tre bande elastiche, semplicemente scegli quella più giusta per te. Avrai anche il DVD Total Body Workout che rinforza e scolpisce il tuo corpo al massimo. Infila i passanti in velcro per i piedi e fai bicicletta, calci e squat saltati per avere cosce e glutei veramente sodi. T-Grip Max è leggero e facile da trasportare ovunque. Puoi perfino montare il T-Grip Max su qualsiasi base fissa purché sicura. Solo con T-Grip Max brevettato hai tre livelli di resistenza, i passanti per i piedi e il DVD Total Body Workout, la guida passo passo al cibo e un poster di allenamento. In più anche la borsa da viaggio e la comodità dell'attrezzatura da porta. È l'unica cosa che ti serve per ottenere il massimo dei risultati. E il tutto per l'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Chiama ora per informazioni! Chiama ora per informazioni! Chiama ora per informazioni!